Eeeeeee what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2 Per questa incredibile nuova serie ragazzi e questo incredibile primo video vediamo di raggiungere almeno i 100 like So benissimo ragazzi che siamo capacissimi anche di strasuperarli per cui non dimenticatevi che il sostegno con i mi piace è assolutamente fondamentale Al proseguimento di questa serie per cui eccoci finalmente arrivati di sicuro qualcuno di voi starà dicendo ma guarda giocherina che Little Nightmares 2 è uscito l'11 febbraio Lo so benissimo ma siccome se ragazzi non porto in ritardo le serie anche quando voglio comprare i giochi al lancio non sono contenta Non poteva che succedere anche questa volta perché perché dovevo acquistarlo al lancio quindi l'avevo prenotato per averlo il giorno dell'uscita Ci sono stati dei disguidi che non vi sto a spiegare perché se noi siamo qua 3 ore alla fine fortunatamente ragazzi sono riuscita comunque ad acquistare la Collector's Edition Perché ci tenevo tantissimo ad averla da Amazon dopo che l'hanno rimessa disponibile il giorno stesso dell'uscita perché se no ragazzi veramente non si trovava più Per fortuna la cosa mi è stata segnalata e ringrazio ancora insomma chi me l'ha segnalata E quindi alla fine ho potuto acquistarla però ovviamente quindi mi è arrivata con un paio di giorni di ritardo ragazzi dall'uscita per questo che lo sto iniziando quest'oggi Per cui ho tanto hype per questo gioco? Assolutamente sì Hai già visto qualcosa di questo gioco giocherina? Assolutamente no Se non per il fatto ragazzi che avevo già giocato la demo quando l'avevano messa disponibile Ho giocato appunto sul sito viola per cui io non perderei più tanto tempo Andrei immediatamente a cominciare una nuova partita perché ragazzi veramente fremo 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 di curiosità Andiamo bene iniziamo proprio bene ragazzi Eccoci qua siamo in game Quando vi dico ragazzi che ho giocato la demo suppongo proprio che appunto la demo riguardasse una parte iniziale del gioco Infatti io ho questo video iniziale che abbiamo appena visto diciamo questo filmato più che video Me lo ricordo e quindi sono quasi convinta che la demo riguardasse appunto questa parte iniziale Quindi probabilmente magari io non mi ricordo adesso quanto durò la demo Probabilmente durò una mezz'oretta quindi è probabile ragazzi che questa prima puntata diciamo questo primo episodio di questa serie Riguarderà comunque una parte che io ho già giocato comunque nella demo che era stata pubblicata per cui magari è probabile che io abbia qualche riminiscenza di quello che stiamo per giocare Allora ok si usa R2 perfetto riesco a sollevare ok Benissimo ok quindi R2 appunto per accucciarsi No L2 per accucciarsi R2 per afferrare gli oggetti Ok come di consueto ragazzi Tra l'altro quello che è in dubbio dentro di me è se questo sia davvero un sequel o un prequel Mi è stato detto mi è stato accennato perché non è che mi è stato detto che non si tratta di un sequel ma appunto il gioco poi ci permetterà di capire perché E cosa meravigliosa ragazzi che ci incontriamo questo bello ammasso di cadaveri qua appeso circondato da meravigliose mosche che stanno banchettando proprio alla grandissima ragazzi Stanno facendo una festa là sopra Come vi dicevo appunto ragazzi inizio video ho tantissimo hype per questo gioco Voi sapete benissimo quanto il primo Little Nightmares mi sia piaciuto Del quale se qualcuno di voi non ancora lo sapesse ho già fatto una serie perché a volte ragazzi mi dite giocherina perché non fai la serie di questo gioco E magari è un gioco che ho già portato sul canale però mi rendo conto che magari non tutti conoscono tutte le serie che ho portato Quindi è un gioco che ho adorato tantissimo mi è piaciuto da morire Mi ricordo che quando annunciarono che ci sarebbe stato questo gioco ragazzi la mia gioia fu immensa direi incommensurabile Incommentabile e assolutamente smisurata ragazzi perché il primo per quanto comunque alcuni si siano lamentati del fatto che fosse corto Comunque ragazzi secondo me lo si può considerare veramente un piccolo capolavoro Sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista della colonna sonora ragazzi La colonna sonora del primo io me la riascolto tuttora a volte cioè per dirvi quanto quanto mi è rimasta nel cuore Ok devo correre devo correre tantissimo Oddio adesso mi raggiunge Oddio adesso mi raggiunge mi raggiunge mi raggiunge Ok ci siamo salvati le chiappette va benissimo Bene allora sicuramente ragazzi a quanto comunque si è visto nei trailer nei vari trailer che ci hanno mostrato Hanno aggiunto nuove meccaniche a questo gioco Meccaniche che comunque dovrebbero sicuramente magari arricchire in qualche modo L'esperienza di gioco Così si spera ovviamente Vediamo ovviamente e mi ripeto ragazzi lo so che il protagonista Di questo gioco non è lo stesso del primo Quindi nel primo avevamo la bambina di nome Six alias Sol io l'avevo soprannominata così Qua invece abbiamo questo ragazzino che ha questo sacco in testa al quale ovviamente ragazzi affido voi il battesimo nel senso che dobbiamo trovargli un soprannome Allora sto ragazzino di sicuro ha un nome di cui adesso però mi sfugge però come al solito ragazzi affido a voi il battesimo ecco del nostro piccolo protagonista Allora quello che mi ricordo avendo giocato la demo che non posso di certo arrivare saltando fin lì Per cui quello che probabilmente devo fare è appunto appendermi sempre se il piccolo amico lo fa Stavo per cadere? Stavo per dire appendermi a questa corda ma evidentemente no bastava buttarsi Perfetto non ricordavo proprio perfettamente ma va bene così l'importante è procedere Per cui arrampichiamoci E ragazzi io ho veramente altissime aspettative e continuo a ripetermi ma soprattutto dopo aver visto ragazzi l'ultimo trailer che è stato mostrato appena prima dell'uscita Secondo me su questo gioco dal punto di vista di atmosfere è rimasto sicuramente sulla scia del primo Ma secondo me ragazzi ho questo vago sentore Che questo gioco è stato reso ancora più inquietante, angosciante e criptico del primo Per cui ok questo mi ricordavo bene allora perché se no ci sarei saltata dentro sicuramente come un imbecille E quindi secondo me hanno fatto un migliore lavoro Ecco da voci che ho sentito in giro E una gran bella perla ragazzi anche questa Per cui Allora ecco una cosa che Dobbiamo ricordarci di fare attenzione ragazzi alle Belle trappolone che sono state piazzate come potete ben vedere Qua in giro ma proprio con tutta la nonchialanza del mondo Ecco tiriamo via sto coso Benissimo Una meccanica in più che è stata aggiunta ragazzi è sicuramente quella di Ecco poter usare Gli attacchi possiamo dire così nel senso ci sarà dato il permesso di C'è stato dato il permesso di Attaccare Ok Per cui se avremo a disposizione oggetti Con cui potremo attaccare Bam Ok pensavo fosse più qua No invece era più avanti Bom bitch Che gran reazione a catena Attenzione perché Ok adesso con le pigne Noi lanciamo le pigne Vedremo Come saltano Ecco Le varie trappolone Bom bitch Pure lì E un'altra lì Bom bitch Esatto Ammazza 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 Come saltano ragazzi Come popcorn nel microonde Ok Ecco lì Come ho fatto Attenzione Ecco fatto Eh la cosa Ecco ammazza Che già ragazzi distingue L'ambientazione Sicuramente l'ambientazione insomma Che distingue i due giochi Perché nel primo ragazzi ci ricordiamo Che ci avevano ficcato in un ambiente Che comunque era chiuso di per sé Ok era home all'interno di una nave Invece qua Ci sbattono Proprio ci buttano Eh prepotentemente Invece In un bosco Eh una foresta Eh Comunque in un ambiente Eh potenzialmente Eh aperto Diciamo così Tra virgolette Allora il fatto che Qua già ci sia una casa Ragazzi Non mi sembrerebbe Molto positivo Perché la domanda Sorge spontanea Vivrà qui La persona Che ha piazzato Tutte quelle trappole Nella Nella foresta Ragazzi Non lo so Non lo so Allora La brodaglia Bellissima La brodaglia Sul tavolo Guardate Quella brodaglia lì Ok Speravo di poterla Acchiappare Vabbè non fa niente Che schifo La posso buttare giù Pesatamente tanto Sta melma Che direi Che è meglio Lasciarla Marcire lì Dov'è Benissimo Andiamo Che dettagli Ragazzi Eh Io più ascolto Ste musiche Più rimango Allibita Ragazzi Ok ragazzi Allora Qui Esattamente qui Prima C'era Un cappello Ok Allora Perché vi dico Prima Perché purtroppo Ragazzi Sinceramente Parlando Sapete benissimo Che vi dico Sempre la verità Questa è la seconda Volta Che registro Questo video Sono stata Costretta A registrarlo Due volte Perché la prima Ragazzi Il programma Di registrazione Mi aveva registrato Il gioco In una maniera Veramente Oscena Cioè la qualità Video ragazzi Era davvero Inguardabile Per cui Mi sono ritrovata Costretta A registrarlo Per la seconda Volta Per cui Appunto Lì Prima c'era un cappello A quanto pare Essendo forse Un collezionabile Non viene Insomma Reinserito Di nuovo In partita Non lo so Fatto sta Che possiamo Procedere Tra l'altro Ragazzi Comunque Niente di Nel senso Non è che mi sono rovinata L'esperienza O robe del genere Anche perché Come avevo detto Io tutta questa prima parte L'avevo già giocata Giocando la demo Quindi Non è che mi sono spoilerata Niente O cose simili Per cui Come possiamo ben sentire Ragazzi La musica proviene Da Qui Ovviamente Ci servirà Un oggetto Un po' più pesante Per poter rompere Queste assi di legno Per cui Nel mentre ci godiamo Questa musica Così Meravigliosamente Inquietante Direi di Andare di qua E afferrare Questa Esatto Allora Portiamocela via Ragazzi Per quanto sia Comunque più grande E più pesante Di noi Al nostro piccoletto Proprio frega cazzi Ragazzi La useremo Come in shining Per aprirci Un passaggio Esatto La poverina Che tutti noi Ben immaginiamo Ragazzi Essere Six Ma a questo punto Due domande Me le faccio Perché dovrebbe Essere qua Six Se Six L'avevamo conosciuta Sulla nave Quindi Probabilmente Già questo Magari ci fa capire Ragazzi Che sarà Un prequel Ok Al primo Non un sequel Per cui Abbiamo qui La piccola Six Che ovviamente Però adesso Ragazzi Si è stracagata Addosso Poverina Quindi dovrà Avere magari Un attimo Per potersi fidare Di noi Però giustamente Niente da fare Per ora Per ora Per ora Non ne vuole sapere Praticamente Di fare La nostra Conoscenza Cioè Ci ha praticamente Schifato Come se fossimo Degli orrendi Lebrosi Per cui Direi ovviamente Di inseguirla Ma Giuro anche se È già tipo La seconda volta Che vedo Sta roba Io rimango Sempre Abbastanza Scioccata Ecco First reaction Shock Adesso ci vuole Anche second reaction Third reaction Shock Assolutamente Allora Benissimo Qua dobbiamo Proseguire C'è un lucchetto Però Per cui Cara Sol Six Insomma Chiamate come Cazzo Te pare Te devi fidare Di noi Figlia mia Ok Ok Si è decisa Ragazzi Per cui Ci aiuterà Lei In certi Casi E anche questa Ragazzi Meccanica È nuova Qualcuno Si è accorto Di noi Evidentemente Beh Penso che Chiunque Si sarebbe Accorto Di questo Rumore Così Sordo Per cui Muoviti Six Per favore Non lasciare Le tue Piccole Chiappette Là sotto E quindi Stavo dicendo Questa Non ho Meccanica Quindi Avremo a Disposizione Ragazzi Non uno Ma due Personaggi Però Potremo guidare Soltanto Lui E questo Ragazzi Era Rimasto Comunque Già Chiaro Da Dai Vari Trailer Dalle Varie Cose Che Avevano Mostrato Per cui Eccola Lì Ragazzi La chiave Che ci serve Il punto Che qua Ci serve Una leva E questo Anche Chiarissimo Per cui Il ragazzi Bordo Del mobile Qua più Chiaro Ci fa Ben Capire Che è Di qua Che dobbiamo Un attimino Arrampicarci Per cui Six Collabora Grazie Facci salire Facci salire Facci salire Opla Ecco fatto Io avrei fatto il contrario Nel senso Essendo lei più leggera Avremmo dovuto lanciarla Noi su Però Vabbè Sono dettagli Ragazzi Sono dettagli Che si Che si Possono Lasciare Da parte Quindi Ci troviamo Di fronte Anche a Scene come Questa Davvero Incoraggiante Direte No E chi C'ha voglia Di prendere La leva La leva A parte Lo schifo Ma Noterete Che il corpo È tipo Imbottito Non lo so Come lo si può Definire E direi di lasciarlo Però tranquillamente Lì dov'è Perché non Non ci interessa Scoprire altro Assolutamente Assolutamente Nient'altro Allora Torniamo di qua Abbiamo la nostra Leva Guarda Guarda Six Tac Perché l'ho buttata Alla sotto Vabbè Non fa niente La prendo io La prendo io Non ti preoccupare La metto io su Ecco fatto Però Dovrai girarla tu Mia cara Esatto Perché Toccherà a noi Aggrapparci E quindi Opla Tac Oh Ecco qua ragazzi La chiave Che ci serve Mi chiedo Quanto è grande La tasca Per poterla mettere Ma Pure quelli Sono dettagli Non fa niente Quante volte ragazzi Abbiamo visto Personaggi di videogiochi Ok Allora Questa è una cosa Interessante ragazzi Questo affarino Ovviamente Io quando ho giocato La demo ragazzi Non lo avevo Seguito Però questa volta Giustamente Mi sono detta Perché Non inseguirlo E vedere Dove Sta andando Perché La cosa Era veramente Curiosa Insomma Che questo Cosino Scappasse No Quindi ovviamente Siccome io sono Una persona Fondamentalmente Molto curiosa E questo lo sapete Mi sono retta Inseguiamolo Cerchiamo di acchiapparlo Il cosino Eccolo Eccolo qua Cosino Però lui giustamente Non si fa acchiappare E si nasconde Quindi noi dovremo Quindi noi dovremo scovarlo Per cercare di acchiapparlo Ma lui continuerà A nascondersi Caro il mio cosino Ma io continuerò A scovarti Ecco fatto Infatti Si è nascosto Nel cassetto Sentite un attimo La musichetta Ragazzi Che bellina Anche la musichetta Vieni fuori Boom Boom E boom Che bello L'effetto della polvere Meraviglioso E voilà Inseguiamolo Anche di qua Ragazzi Ok Adesso Purtroppo Però noteremo Che sarà tutto Schifosamente buio Se non Per il nostro Amico Cosino Che Ci farà Gentilmente Luce Esatto Per cui Adesso Spostiamo Questo Carrello Per far sì Che il nostro Amico Cosino Possa saltarci su E quindi Poi di regola Spostarsi appunto Dall'altra parte Voilà 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 Guidaci Oh cosino Guidaci Pensi che la strada Stia sbarrata Ti sbagli Perché il tuo amico Cosino Te la aprirà E quindi Adesso Noi potremo Accendere La luce Come potete ben vedere E ragazzi Questo ci Permetterebbe Di appunto Salire Andare Fino a dove È Cosino Adesso Però io Non ci andrò Ragazzi Perché Perché Questa sorta Di segreto Diciamo così Questa parte Segreta Era appunto Per prendere Il secondo Cappello Quindi sarebbe a dire Il cappello a forma Di testa Di cosino Per cui Io direi che Mi arrampicherò Direttamente Di qua Per poter Piccoletto Quando ho aperto Il bagno Qua dentro C'era una sorta Di ombra Ok Una sorta Di ombra Che una volta Raccolta Insomma Ha avuto Un effetto Un pochettino Strano Magari Vi metterò Al massimo Ragazzi Quello che Si è visto Dall'altro Video Perché Fortunatamente Ho ancora Tenuto Il file Giusto Per farvi Capire Di cosa Sto parlando E Non ho capito Cosa Quell'ombra Servisse Effettivamente Però Vabbè Magari Magari Più avanti Potremmo Capirne L'effettivo Utilizzo Per cui Procediamo Adesso Siete pronti Perché io No Non sono mai Abbastanza pronta Per questo Infatti Saggiamente Six Ci dice Di far silenzio Anche perché Già questo rumore Non è che sia Molto Amichevole Invitante E infatti Ragazzi Assolutamente Terrificante Questa figura Ok Così contro luce E lì Che spella Che squoia Non so cosa Diavolo stia facendo Ci sentirà Perché ci sentirà Oddio Direi di correre Corri 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 Nonostante tutto Nonostante tutto Il panico Il panico Il panico Il panico Corri Six Dai Da forza A quelle gambette Accidenti Corri Ok 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 Iniziamo Proprio Benissimo Ragazzi Con un tizio Che non si capisce Perché la testa Così grossa E ha un sacco Sulla faccia Che Ci spara Addosso Con una bella Doppietta Come iniziare Il gioco In maniera migliore Nessun'altra Maniera Ragazzi E questo bellissimo Tizio Direi Che potrei Chiamarlo Sacco Man Ce sta No C'ha un sacco In testa Poi tra l'altro È bello garuccio Si è messo pure la Pure la coppolella Cioè si è messo pure il cappellino Ma quanto è puccetto Super puccetto Six Movite però Fia mia Vi è qua Il bello è che possiamo Prenderla per mano Ragazzi Guardate che bello Questo dettaglio Possiamo prenderla Per mano Adesso Dovremmo essere Un po' Stealth Cosa che sapete Di solito Non mi esce molto bene Perché No Devo stare accucciata Mannaggia Quanto sono stupida Ragazzi Ho premuto R2 Invece di continuare A premere L2 Che serve Per stare accucciati Perché Perché Mr. Saccoman Se dovesse notarci Dal suo buco All'interno Dell'erba Non si farà Tanti scrupoli A spararci Addosso Per cui Continuiamo Evitando Possibilmente Di farci notare Attenzione Fermi Fermi ragazzi Ok Avviamoci già Perché Perché dobbiamo essere Un pochettino Più celeri Per poter entrare Qui dentro Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Attenzione Attenzione Spostati Spostati Six Spostati Six Esatto Ci avrei giurato Ci avrei giurato Ragazzi Che avrebbe comunque Provato a sparare Perfetto Ce la siamo viste Abbastanza brutta Ma Siamo riusciti Per lo meno Per adesso A scamparla Da 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 Sacco man Per cui bene così Allora Se non sbaglio Ragazzi Non vorrei dire Una boiata Se non sbaglio La demo Si interrompeva Proprio qua Se non erro Per cui direi Che forse Sarebbe appunto Il caso Di interrompere Qua questo primo episodio Così da poter riprendere La prossima volta Veramente Questa volta Totalmente in blind run Quindi sarebbe a dire Non sapendo assolutamente Nulla Di quello che succede Di quello che si deve fare Per cui Allora ragazzi Io intanto Aspetto come al solito I vostri pareri Aspetto come al solito Ragazzi Le varie proposte Per il nome Da dare al nostro Piccolo protagonista Per cui Sbizzarritevi Perché sceglierò Appunto Quello Che mi piacerà di più Mi sembrerà più originale Quindi questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione Obdosce a tutti ragazzi Da giocherina Ciao